Seve, ma che arriva il Marco, eh? Vai, 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 vai! Giralà, impara a girarla quando sei incasinato così, girala, non tirarla su, tirala di fianco e scendi, impara, che non fai fatica, no ma è andato bene, sei arrivato dove sono arrivato io la prima volta, non ci pensare a salire, ma neanche scendi giù e la rifai, no, no, sì, sì, no, lo devi far subito perché capisci dove è sbagliato e correggi, se la rifai va che arriva, tiriamoci via, scendi giù lì.